Nel sutto grazie e non vi nascondo che sono un po' emozionato, io romano da mille, duemila generazioni, non lo so, forse anche qualche cosina di più, essere qui al basta Euro Tour della Lega. Che vuol dire? E che la musica è cambiata, vuol dire, ed è cambiata anche di tanto. Poi voglio dire una cosa, vedete perché avviene questo? Perché ormai i nemici dei miei nemici sono miei amici, mi sembra ovvio, è evidente, quindi oggi noi dobbiamo fare una battaglia comune. Vedete, prima è venuto su Alberto, Alberto è vero, è stato il primo che ha detto guardate che uno più uno fa sempre due, ma Alberto ha anche un altro vantaggio enorme, è quello che gliel'ha dato a dire in faccia senza problemi, perché mai nessuno prima gliel'aveva contestato. Eppure ve lo posso garantire che i testi in cui ha studiato Alberto, ha studiato Claudio, studiato io, sono esattamente gli stessi identici testi in cui hanno studiato gli altri. Non è che a noi ci hanno dato dei testi particolari dove c'era la verità, assolutamente uguali. Lo sapete il motivo per il quale noi invece li abbiamo letti nel giusto modo? Perché noi diciamo la verità, gli altri no, gli altri ci hanno preso per i fondelli. Ci hanno preso perché sapevano perfettamente questo, lo sapevano senza nessun dubbio. Io perché supporto Claudio? Mica perché è mio amico, perché ho tanti amici che si presentano, amici personali, che si presentano anche in altri partiti, ma che non la pensano come la penso io. Io voto Claudio perché, l'ho detto pubblicamente, quando andrò a votare, ecco l'unica cosa negativa che mi farei svegliare alle 5 della mattina perché io voglio essere il primo quando si apre il seggio. Mi metterò addirittura il vestito buono perché per la prima volta in vita mia avrò la possibilità di votare chi veramente voglio votare. Perché io fino adesso ho sempre votato, non sapevo perché votare, non lo sapevo, mettevo lì una croce, l'hanno deciso nelle segreterie, non lo so, non mi riconoscevo. Con Claudio invece finalmente voto esattamente la persona che voglio votare perché se, e solo per una questione di scaramanzia dico se, e ci siamo capiti, andrà a Bruxelles. Finalmente avremo una persona che ci dirà prima e non dopo quello che è avvenuto perché noi fino adesso l'abbiamo letto dai giornali e solo quello che ci volevano soprattutto far capire. Abbiamo una persona che per la sua professionalità e per il suo percorso professionale è in grado di capire perfettamente le porcherie che stanno facendo. Io le chiamo le polpette avvelenate perché poi sono delle polpette in acronimi, MES, ERF, Fiscal Compact, PAC2, PAC4, PAC5, sono pacchi, sono pacchi, sono grandi pacchi. Allora finalmente qualcuno che dice alt, signori guardate che qui stanno facendo queste porcherie, perlomeno lo sappiamo prima perché vedete fino adesso il Fiscal Compact non ne parla nessuno. Ogni tanto quando ne parla qualcuno, ah quello non ha capito niente, no non è così, anzi ci guadagniamo. C'è qualcuno che dice pure ci guadagniamo, è vero? C'è qualcuno che sostiene ci guadagniamo, ci guadagniamo. Scusa ma tu sei un italiano? Dopodiché il giorno dopo, lo sapete benissimo, succederà un qualche cosa di ancora più carino. Apposta vorremmo che il nostro amico vada lì e lo dica, stoppi, attenzione, le cose stanno così. Perché il Fiscal Compact così come lo conosciamo ormai è superato. Perché siccome nessuno sarà in grado di poterlo rispettare nella sua configurazione originaria, si sono inventati un altro pilota automatico perché noi siamo qui bravi a firmare i piloti automatici. E siccome vi ricordo che noi siamo stati gli unici, posso dire deficienti, che per esempio abbiamo inserito nella Costituzione l'articolo 81, il principio del Parigio e il bilancio dei 25 paesi, siamo stati gli unici imbecilli. Gli altri hanno detto ma aspettiamo un pochino, perché noi siamo stati gli unici, subito a firmare. Poi c'è Renzi che dice sono riuscito, siamo al 2,6. Però ce l'ha fatto anche firmare con la... Sì, beh c'è, ma certo. Ricordiamo com'era la roba... Non solo col fucile, ma è una cosa storica. Vi ricordate la famosa domenica di Amato nel 92, settembre 92, quando andò con la manina 92.700 miliardi, la più grande manovra della storia, e prese anche fra i nostri conti correnti, allora sappiate che avvenne domenica sera a Rete Unificate. Il mercoledì successivo il Senato firmò con i pannoloni la ratifica definitiva del trattato di Maastricht. Avete capito? Quindi noi siamo sempre nelle condizioni, con la pistola puntata alla tempia. Secondo voi questi bravi senatori che cosa hanno capito del Maastricht? Sono andati, anzi, meno male che c'è Maastricht, siamo tutelati. Meno male. Allora, il giorno dopo andrà nella discussione... Il giorno dopo per modo di dire, perché ci vorrà qualche giorno per l'insediamento, ma diciamo, i primi provvedimenti saranno quelli di vedere come sistemare a livello di pilota automatico questo benedetto fiscal compact, come? Noi non siamo buoni a fare nulla, d'altronde loro si rendono conto, a differenza di noi che abbiamo Renzi, che è un venditore di tappeti, infatti prima diceva no, che ha detto, ci manca, no, no, è un bravo venditore di tappeti, il quale, che cosa farà? L'Europa sa benissimo che qui non siamo in grado di fare nulla, ci pensiamo noi e ci sarà il famoso ERF, altro acronimo, in maniera tale che la gente non capisce assolutamente nulla, che sarebbe il fondo di redenzione, perché noi ci dobbiamo ridimere, non so da che cosa, forse è la colpa di aver avuto una manica di sciarlatani che ci ha governato fino adesso, molto probabilmente, è questo. Dopodiché, a quel punto, sarà l'accessione definitiva della nostra sovranità, in modo irreversibile, irrevocabile, così come ci hanno fatto credere dell'euro, perché noi a fronte dell'asservimento dell'eccedenza del 60% del nostro debito pubblico, dovremmo dare a garanzia collaterale tutte le nostre asset patrimoniali, addirittura l'oro, sperando che ci sia ancora, ma c'è ancora quest'oro, perché non se ne parla più, perché quello è nostro, del popolo italiano, non è delle banche private, vabbè, un altro discorso. Quindi, per carità, a servire anche parte della fiscalità, attenzione, quindi addirittura l'IVA viene direttamente messa nelle casse di questo fondo, ma il brutto è che saranno emessi questi famosi euro bond, di cui qualcuno si auspica senza aver capito assolutamente nulla di che cosa sono gli euro bond, significa, in quel momento, abdicare completamente, perché gli euro bond sono dei titoli, sempre in valuta estera, come quelli che emettiamo ora, ma sono sotto la giurisdizione non più italiana, quindi non ci sarà neanche più la possibilità di poterli riconvertire, secondo la Lex Moneta. Quindi noi, praticamente, in quel punto saremo veramente, non voglio dire brutte parole, ma voi avete capito perfettamente come ci ritroveremo. Quindi, una persona come Claudio è la persona ideale, la persona anche come Francesca, perché sono molto bene, perché quando ha aperto questa bella iniziativa l'altro anno, Euro Exit a Palermo, c'ero io con lei, sono persone in grado di dire alte, fermi, si accende la luce rossa, in tutti i modi e in tutte le maniere. A quel punto io non voglio più sapere della gente che dice non lo sapevo, perché te lo stiamo dicendo anche nelle lingue più strane, d'altronde noi adesso siamo attaccati dalla stampa in una maniera vergognosa, schifosa, vuol dire che abbiamo fatto centro. Io sono felice, perché vuol dire che abbiamo fatto centro, alla grande, alla grande. E poi voglio dire una cosa, perché mi dispiace che qualche imbecille, perché veramente imbecilli faziosi attaccano Claudio, lo fa per una poltrona. Lo fa per una poltrona. Allora guardate, io lo conosco bene Claudio, guardate, vi garantisco che non lo fa per una poltrona, perché per lui sicuramente è veramente un fastidio quello che sta facendo a livello personale, non è a bisogno. E poi, ve ne dico un'altra, se Claudio avesse aspirato a una bella poltrona, come ad esempio anche Alberto, se avesse aspirato a una gran bella poltrona, hanno sbagliato completamente. Dovevano dire che l'euro era la cosa più bella di questa terra. Anche perché abbiamo visto, una decina di giorni fa, sono stati dispensati molte poltrone e abbiamo visto a chi sono andate. Magari un Claudio Borghi o un Alberto Bagnai ce li saremmo ritrovati tranquillamente amministratori delegati dell'ENI se avessero detto che l'euro è la cosa più bella di questo mondo. Siccome hanno sempre detto il contrario, state certi che il proprio sedere su quelle poltrone non ce lo metteranno mai. Mai e poi mai. Sappiatelo questo. Quindi, al mittente che dice che questi signori se la stanno tirando perché vogliono avere la poltrona. Hanno avuto per ora soltanto fastidi. Ve lo garantesco. Sapete, adesso parliamo pure di Matteo. Non è che se n'è andato perché c'era paura. Allora, Matteo ha detto una frase e la voglio sintetizzare solo in questa. L'ha detta 3-4 giorni fa in un talk show. Uno gli ha detto, bravo, cioè tu adesso stai cavalcando questa cosa perché vuoi una manciata di voti in più. E lui ha dato una risposta che avrei dato io. Lo sapete quale? C'è un figlio di 11 anni e voi pensate che io stia ipotecando il futuro di mio figlio per una manciata di voti. Io lo faccio per dargli un futuro. E lui mi ha conquistato. Perché anch'io sto facendo questa battaglia e lo so perché sono suo amico. Lui la sta facendo per poter dare un futuro dignitoso ai propri figli. Punto e basta. Non ci sono altre mire per questo. Quindi io mi sgolo per votare Claudio. Perché veramente andando a vedere Claudio sugli scranni del Parlamento europeo sarà come vedere uno di noi. Esattamente uno la pensa come noi. Quindi ho bisogno, abbiamo bisogno che una persona ci riscatti. Claudio vai lì e riscatta questo paese perché fino adesso ci siamo solo che svenduti. Porca miseria. ci siamo affidati a della gente che non ha capito niente e quei pochi che hanno capito quei pochi che hanno capito che l'hanno fatto volutamente. Cioè hanno mentito sapendo di mentire. E finalmente abbiamo una persona me lo auguro al plurale i quali ci riscatteranno. Abbiamo bisogno di riscatto. Non mi piego. Non voglio che venga alzata la bandiera bianca della risa incondizionata. La parte migliore di questo paese noi ancora la vogliamo vedere. La vogliamo ancora vedere. La vogliamo vedere. Perché ricordate che la storia sarà molto molto dura nei confronti di questa generazione se qualcuno non ha fatto nulla per poterla salvare. Guardate siamo veramente all'ultima spiaggia. Questa volta andiamo a far vedere che ci siamo anche noi. rimettiamo finalmente i cittadini al centro come volevano d'altronde i vecchi padri fondatori e non al centro degli interessi delle banche. A Claudio li voglio bene e siccome so che vuole bene i suoi figli è come se volesse bene anche i miei. Vai e riscattaci e torna vincitore. Ti prego. Grazie.